Ne avevamo già ampliamente parlato, ma sembra che la problematica delle spiagge libere degli stabilimenti balneari di Metaurilia sia ancora di difficile soluzione, soprattutto dopo le alluvioni di questi giorni che hanno devastato gran parte delle spiagge Trafano e Ponte Sasso. Io sono il portavoce del Comitato Civico Scogliere di Metaurilia, che si occupa prevalentemente della salvaguardia della spiaggia libera di Metaurilia che è subito qui a nord di questi stabilimenti. Volevo parlarvi di quello che è il problema vivo di questi concessionari subito a ridosso dell'intervento che è stato completato l'anno scorso, perché hanno subito pesanti danni e devastazioni in tutto il periodo invernale e da ultimo si è aggiunto anche la drammaticità degli eventi di questi ultimi giorni che hanno colpito qui, ma hanno colpito soprattutto tanti cittadini nella nostra provincia e soprattutto nella regione Marche. Il problema più cogente è quello di consentire in prima battuta a questi due concessionari di poter riaprire la loro attività nel pieno di quelli che erano gli spazi della loro concessione e garantire a tutti i loro clienti di riavere gli ombrelloni e i lettini. Quindi ci troviamo in una situazione in cui questi due stabilimenti pesantemente colpiti da brutte mareggiate a novembre, dicembre, la più brutta ancora a gennaio e ancora adesso hanno difficoltà a reperire il materiale per costituire le loro spiagge e ripiantare gli ombrelloni. Questa è una situazione oggettiva che possiamo benissimo vedere e documentare. Le attività commerciali, per potersi garantire un minimo di spiaggia antistante allo stabilimento, hanno prelevato dal mare quello che restava di sabbia sporca e melmosa, per poter riorganizzare la propria attività balneare. Ad oggi i concessionari hanno cercato di recuperare dal mare quello che hanno potuto, ben poca roba, e si sono guardati in giro, cioè hanno grosse difficoltà e hanno bisogno di essere aiutati. L'aiuto glielo può dare la pubblica amministrazione, sicuramente, mi rendo conto che siamo in un momento molto difficile perché i problemi si sono amplificati per quello che è successo negli ultimi giorni. C'è bisogno di dargli una mano, recuperare un po' di materiale dove c'è e portarglielo qui, perché non c'è altra possibilità. Ogni metro quadro in meno di spiaggia significa clienti in meno che non puoi ospitare, questo è oggettivo. Sembra proprio che il nodo del problema siano in parti le mancanti scogliere di protezione, lavori assicurati nell'approvazione del secondo stralcio del 27 marzo scorso, ad oggi costati più di 6 milioni di euro, di cui 2 milioni recepiti dal governo Draghi, a copertura delle spese extra delle amministrazioni pubbliche a seguito della crisi energetica. L'amministrazione ci ha confermato e ha presentato alla comunità di Metauriglia il 27 marzo scorso il secondo stralcio delle opere e presentato questo progetto. I fondi a disposizione sono 4 milioni di euro, sono fondi PNRR che hanno una scaletta di utilizzo abbastanza stretta, per cui alla fine di questo mese di maggio, e quindi è molto importante la prossima scadenza, scade la prima che è l'apertura del bando di gara per l'affidamento del secondo stralcio. Il secondo stralcio potrà essere, con i fondi che ci sono a disposizione, la realizzazione non di quello che manca, perché per raggiungere la spiaggia dell'hotel Playa e la giù a sud-est sono circa 1700 metri ancora e con i fondi che hanno a disposizione l'amministrazione ci ha già comunicato che potrà farne ancora un pezzettino, altri 4 setti che raggiungeranno la concessione Boiani Beach, che è la quarta concessione su questo tratto di costa. Oltre non riusciranno ad andare, a meno che vengano fuori altre risorse che dubito che in questo momento potranno essere messe a disposizione. Ad oggi un'ottimale soluzione sarebbe quella di poter trasformare l'attuale sottopasso idraulico in un sottopasso pedonale, che consentirebbe alle persone di poter accedere direttamente a un fazzoletto di spiaggia libera antistante un mare ben visibile e protetto. L'idea che noi abbiamo avuto è quella di riutilizzare la struttura muraria di questo sottopasso per fare un nuovo sottopasso pedonale. Abbiamo individuato delle tecnologie innovative che permettono in brevissimo tempo e con il principio della prefabbricazione di fare un montaggio in un solo giorno di questi elementi prefabbricati che vengono tecnicamente si dice postesi sul posto, viene realizzato sul posto un unico monolite e in 24 ore si può infilare, rimettere in sicurezza la ferrovia e poi con calma smontare le opere previsionali che devono essere fatte per consentire comunque il transito sui treni.